Il presidente della provincia strianese ha segnato le deleghe ai consiglieri. Abbiamo distribuito un po' a tutti, chiarisce, e in alcuni ambiti abbiamo scelto la strada della continuità con il passato. Sì, abbiamo un po' distribuito tutte le deleghe, i vari componenti del Consiglio che fanno riferimento alla maggioranza, un po' di partecipazione da parte di tutti, qualche delega ciascuno, quindi definiamo un po' i ruoli, sapete che le competenze della provincia sono quelle fondamentali, però la provincia ha un ruolo di indirizzo, di vigilanza, di controllo su tutta una serie di argomenti. Io penso che la provincia debba dire la sua anche su quelle che sono funzioni non direttamente proprie, ma che riguardano il sviluppo di un'area vasta come può essere quella della provincia. Quindi abbiamo affidato tutte le deleghe più importanti, per esempio la viabilità in continuità con quanto fatto negli anni passati al Consigliere Rescigno, le opere pubbliche al Consigliere Servalli. Il Vicepresidente Stanziola mi seguirà un po' in tutti i rapporti istituzionali, i rapporti con i vari organismi pubblici, privati, l'università. Poi l'edilizia scolastica è stata assegnata al Consigliere Sagarese di Campania Libera, l'ambiente al Consigliere Fausto Vecchio del gruppo di centro, mentre per esempio il Consigliere Guzzo del Partito Socialista seguirà la programmazione della rete scolastica, le politiche giovanili, le pari opportunità. Quindi diciamo che stiamo coinvolgendo un po' tutti e mi auguro che faremo un buon lavoro. Grazie a tutti.